Allora, eccoci qua, ciao a tutti, qui con me oggi nell'intervista a studenti ho Michele, Michele è un fotografo, è diventato nostro studente qualche mese fa e in pochissimo tempo ha studiato il programma di Infomark di Geeks e ha già incassato 7000 euro con la sua masterclass di fotografia e adesso quindi ci racconterà un po' come è nato tutto, se ha avuto degli ostacoli all'inizio, come li ha superati e come ovviamente si stanno evolvendo le cose, ma intanto ti do il benvenuto, ciao Michi. Ciao, ciao a tutti, grazie Michi per questa possibilità di essere intervistato da te e di parlare anche a tantissimi altri infomarketer che presto entreranno diciamo anche in infomarketing lifestyle. Come hai detto bene, io sono un fotografo dei beni culturali più precisamente quindi mi occupo di valorizzare i nostri patrimoni culturali, quindi fotografare delle opere d'arte, delle statue e quant'altro e praticamente da, io avevo sentito parlare di te ancora agli inizi di giugno, anzi a fine giugno e lì ho detto oh mio Dio vediamo, cioè avevo visto qualche video che sei quelli che non ti convincono, poi aspetta ma parla di passioni, parla di professioni, aspetta che ci aggiorniamo, andiamo più nello specifico no? E lì ho visto dei video e ho detto ma aspetta questo ragazzo forse ha qualcosa da raccontare, così ho preso i biglietti per l'EDC e lì a Libretti di Catene che è un evento che non fai più adesso e lì sono stati tre giorni paurosi perché davvero mi sono reso conto delle possibilità che c'erano da fare e quello è stato un po' l'inizio nel senso che ancora non ero entrato in infomarketing lifestyle però sapevo che c'era davvero tantissimo che si poteva fare soprattutto per la mia idea di fotografia, di ricerca che ogni persona deve continuare ad allenare che non è solamente relegata alla tecnica ma anche a tutta quella che è la mentalità ad aprire e allenare la mente, ad aprire e allenare gli occhi quindi a percepire e fotografare prima ecco con la nostra testa, con i nostri occhi prima che con lo strumento fotografico. Da lì è partito un po' tutto, poi sono entrato in infomarketing lifestyle credo a metà settembre però lì ero ancora a Roma perché ho lavorato qualche mesetto a Roma quindi non avevo fatto grandi cose però subito dopo nel giro di questi 4-5 mesi ho messo praticamente in atto tutto quello che insegna all'interno di questa masterclass e ho iniziato, ho messo online la mia Academy of Lights, questa masterclass che aiuta le persone a sviluppare e ad approcciare alla fotografia in modo corretto e consapevole, uso sempre questa parola la consapevolezza perché deve esserci un perché per ogni azione, per ogni pensiero, per ogni visione per ogni strumento insomma e niente sono partito all'inizio sinceramente con un po' un flop perché non avevo come dire, avevo saltato dei passaggi perché sai, quando hai sempre queste false credenze che magari ti restano dentro ma finché non te ne liberi, così praticamente anche la mentalità mi ha salvato molto, devo essere sincero perché quando investi 500 euro in Facebook Ads e te ne entrano meno di quelli che investi un po' prendi paura, ok? Però fortunatamente la mentalità che faccio quotidianamente mi ha detto ok, quello è un feedback negativo, cerca di capire cosa non è andato in modo corretto e lì ho diciamo cambiato un po' di cose, sono ripartito e praticamente con il VSL famosissimo e praticamente lì ho iniziato a fare malanni in senso positivo cioè calcola che appunto siamo arrivati adesso a circa 6.910 e alzando anche i prezzi, quindi vedendo le persone che sono entrate che hanno davvero voglia di compromettersi e di, come dire, migliorare rispetto a quello che erano ieri ogni giorno, continuamente e costantemente e questa è un po' la fame che ho io perché non solo dal punto di vista di marketing ma anche con altri mentori, autori, artisti, fotografi quindi voglio sempre andare oltre a quello che ero ieri giustamente perché c'è sempre questa, come dire, sviluppo da fare e tra l'altro fortunatamente le tue metodiche sono applicabili anche ad altre realtà infatti sto seguendo un'azienda che di curo la parte di marketing e di social media a livello di strategie di marketing prettamente con il funnel e anche lì è uscito un bel contrattino quindi ad esempio in tre giorni eravamo intorno alla cifra dei 3.500 in tre giorni, cosa che fino a prima non avrei mai pensato insomma ma oltre a questo dato monetario la cosa che a me piace proprio e mi riempie il cuore è che oggi ho una metodologia una consapevolezza in più di me stesso per aiutare gli altri per fare del bene a loro perché in primis io ci ho messo circa 12 anni per avere questa apertura di mente io odiavo l'arte, devo essere sincero poi ho fatto l'accademia che mi ha aperto la testa e mi ha fatto capire cosa effettivamente è tutto questo mondo fantastico della fotografia, dell'arte, queste contaminazioni e praticamente grazie a te la cosa che mi piace, la cosa più importante che mi sto rendendo conto è che oggi ho un metodo per aiutare le persone a distanza e questo mi riempie il cuore perché vado a veicolare detto così sembra quasi da, non so sbruffoni ma il mio verbo, cioè il mio pensiero che io mi davvero sbatto per questo nel senso che deve esserci la consapevolezza di noi stessi in primis prima ancora di imparare a usare la tecnica o quant'altro cioè come hai visto io utilizzo anche, ce l'ho dietro, la usaggetta ma per un motivo poi esistono tantissimi altri strumenti per dell'altro ma prima ancora di parlare di strumentazione bisogna conoscere noi stessi dove vogliamo andare e il perché guardiamo e reagiamo in un certo modo in questo magico mondo fatto di luce e io la parlo, per me è questo e la cosa bella è che appunto posso aiutare gli studenti da qualsiasi parte d'Italia perché loro sono ovunque Roma, Sardegna, Abbiategrado, Milano, Pordenone è una cosa davvero che mi riempie il cuore soprattutto perché appunto come ieri nella sessione strategica vedo sempre che c'è questo miglioramento che hanno fame di migliorarsi e che ti ringraziano e quando una persona ti ringrazia boh ti si apre il cuore non c'è prezzo che tenga e a maggior ragione volevo cogliere questo momento per ringraziarti te, Gabbo, Pier, anche Giulia che forse un po' mi odia ma lei lo sa già perché davvero senza di voi oggi non sarai la persona che sono sembra una frase come dire fatta ma assolutamente no ho scoperto in questi otto mesi che ci sono tre cose fondamentali da allenare devi avere un metodo e è quello che ci dai tu devi credere in te stesso e devi avere la mentalità corretta senza una di queste tre cose si fa fatica nel continuare nell'avere costanza la mentalità mi ha salvato nel primo lancio di Academy perché ragazzi quando perdete 500 euro perdete poi era un feedback negativo con una mentalità di un anno fa ho detto perso però poi pian pianino devi credere in te stesso e dici no cosa ho sbagliato cosa posso andare a sistemare e quello mi ha permesso di risorgere e poi di applicarlo anche ad altre realtà e di avere ancora più fame nel andare oltre ma non si tratta di solamente introiti economici proprio di capire cosa io in primis voglio della mia vita cosa voglio fare che obiettivi ho e chiaramente cosa voglio portare anche come risultato ai miei studenti e ora sì sono un po' agitato sono un po' così perché non è non è come dire quotidiano lasciare questa testimonianza ne ho sempre viste moltissime però tutti anche gli altri che erano che ho intervistato sono stati anche loro di come dire adesso non mi viene il termine ma di aiuto per questa mia crescita perché l'esempio facile è di Christian quando ho visto il suo video ho detto ma cavolo questo qua con tutto il rispetto del mondo mi vende un corso di cani ho detto ok io tralasciando che sia fatto da Dio e quant'altro ma io potrei anche insegnare una professione quindi cosa posso fare rispetto a tutti quelli che fanno oggi là fuori c'è tutti insegnano la tecnica nessuno ti parla di mentalità di visione e io ho condensato una masterclass paurosa perché me ne rendo conto che va a trattarti tutto che ti prende mano nella mano dall'inizio alla fine per quello è per anche professionisti e non solo per chi non sa niente principalmente per le persone che vogliono che non si accontentano e che vogliono svilupparsi e nella vita in qualsiasi professione anche uno sportivo deve avere sempre una testa focalizzata allo sviluppo al migliorarsi quindi principalmente la mia masterclass è una cosa è un percorso infinito perché la scalata è infinita non possiamo mai come dire limitarci e questo non sarebbe oggi possibile se non grazie a voi quindi davvero nuovamente grazie sono emozionato grazie a te grazie a te per la fiducia anche perché sai sono tanti devo ammetterlo sono tanti infatti l'altro giorno ti ho taggato su Instagram sono tanti che sai si fermano sempre al ah ma Mic ma io faccio il fotografo il tuo corso va bene per me e se va bene per che cosa andrebbe bene oppure io faccio questo ma il corso va bene per me e poi invece ci sono persone che non stanno lì a chiedere inutilmente perché io se ci penso tu non mi hai mai chiesto se il corso andava bene per te cioè hai capito che era per te boom hai agito hai ottenuto risultato ma questo accade nella maggior parte cioè quasi tutti il 98% più o meno di voi di tutti quelli che poi ottenete risultati sono tutte persone che non mi hanno mai chiesto ah ma va bene anche per me va bene anche per me va bene anche per me viene da chi cerca la scusa per magari non investire non impegnarsi in qualcosa no e quindi alla luce anche di questo mi viene in mente mi hai fatto ricordare quando avevi postato sul gruppo di studio avevi postato il il post avevi messo il post che ah ragazzi io ho lanciato col forza 4 funnel che per i profani per chi non sa che cos'è sono è il funnel classico con i 4 video con la sales page per comprare e mi ricordo che avevi detto ah ma è andato male di qua di là che io ti avevo scritto sì ma io ti avevo detto ti avevo detto che dovevi utilizzare il BSL funnel che anche qua per chi non sa nulla il BSL funnel è sostanzialmente un funnel a due pagine dove c'è una pagina che cattura il nome in cambio di un video di valore che in questo caso Michi ha creato successivamente dopo il video di valore dopo che la persona si è nutrita con il video di valore c'è una consulenza strategica telefonica dove ovviamente Michele in questo caso va a seguire uno script di raccolta di informazioni e presentazione dell'offerta e vendita alla perfezione che serve ovviamente per vendere un prodotto o un servizio in questo caso Michi vende la masterclass per di fotografia e la cosa impressionante è proprio questa cioè che quando tu hai fatto tra virgolette il flop no? quindi dice ah cavolo ho perso 500 euro ecco la maggior parte te lo assicuro la maggior parte delle persone che fallisce all'interno di questo settore sono tutte persone che in quel preciso momento mollavano perché ah ma no vedi non funziona perché io sono un fotografo non funziona e via dicendo invece tu hai colto alla perfezione quello che anche io ti ho detto in maniera magari anche leggermente fredda ti ho detto guarda questo dovevi fare cazzo perché almeno vediamo se funziona e non hai fatto niente cioè non hai detto niente non ti sei opposto hai detto ok perfetto boom lo faccio e quindi la tua mentalità ti ha aiutato sicuramente a ricreare un po' tutto rivedere un po' le cose hai creato il VSL e io mi ricordo che poi subito dopo nel momento in cui sei partito boom sono esplose le tue vendite e non peraltro sei riuscito anche a aumentare il prezzo volta dopo volta volta dopo volta volta dopo volta tant'è che tre giorni fa mi avevi chiesto ma io vendo a 5,97 posso aumentare e ti ho detto assolutamente sì metti a 9,97 e il giorno dopo hai postato sul gruppo ho venduto a 9,97 quindi quindi no è stato veramente questo questo fa capire quanto la mentalità sia sia importante ok eccoci qua abbiamo fatto un piccolo taglio perché purtroppo le nostre connessioni oggi si stanno ribellando alla grande onnipotenza dell'infomarketing no dunque stavamo proprio dicendo questo no che la maggior parte delle persone poi molla cioè nel momento in cui vede magari un primo flop molla e non sa più come andare avanti oppure comincia a cercare strade alternative va da un'altra parte compra altra roba e però si trova sempre nello stesso identico punto tu invece hai utilizzato quel piccolo flop per capire dove avevi sbagliato per poi ovviamente migliorare no tant'è che sono arrivati i risultati di cui abbiamo parlato e a proposito di questo no come è stato per te per un fotografo comunque mettere giù all'interno di una masterclass un percorso step by step utile ovviamente a trasferire quella che è la tua conoscenza perché alla fine sai professionisti ce ne sono tantissimi no e la fatica che la maggior parte di loro ha è proprio quella di mettere all'interno di un corso all'interno di una masterclass all'interno di un programma quelle che sono le loro conoscenze affinché altre persone possano impararle e apprenderle come è stato il 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 percorso cioè come hai capito quali erano le cose principali da inserire all'interno della tua masterclass che poi ovviamente hanno creato l'offerta che oggi sei in grado di vendere e per la quale ovviamente le persone sono disposte ad investire del denaro allora sicuramente diciamo tutte le risposte che ho trovato sono all'interno della tua masterclass nel senso che io le idee chiare in testa le avevo da un po' di tempo ma non sapevo come strutturarle non sapevo come pianificarle io da sempre mi batto come ho detto prima sul approcciare in modo molto consapevole corretto a tutto quello che è il mondo fotografico vedo tanti che investono migliaia di euro in attrezzature e zero informazione e questo non mi sta bene o meglio io voglio trasmettere proprio l'opposto cioè per carità l'attrezzatura è fondamentale successivamente nel momento in cui sai usarla un esempio che dico sempre ai miei studenti non è detto che un possessore di una Ferrari sia anche un pilota probabilmente può permetterselo ma tu hai necessità di una Ferrari sai portarla allo stremo sai anche tutti i meccanismi che ci sono all'interno cioè è un percorso il mio che avevo in testa proprio perché mi sono reso conto per la mia esperienza che ero anch'io tecnico come loro come tutti quei malati di tecnica che oggi a dirla tutta un fotografo dei beni culturali deve essere perché fotografia scientifica però allo stesso tempo parallelamente proprio per tenere allenata e aperta la mente io ho bisogno di creare progetti d'arte quindi andare a sperimentare fare l'opposto di quello che la fotografia scientifica ti limita però dividendo i due mondi non facendo un mix perché questo potrebbe essere dannoso quindi sì avevo in mente tutto il procedimento però non sapevo come metterlo sicuramente online e anche come promuovermi perché io prima si parlava di Instagram io sono partito praticamente tardissimo cioè credo forse l'estate scorsa e ho pochissimi follower quindi lì davvero non sto neanche facendo promo effettivamente tutta su su facebook perché comunque insegna il buon gabbo ci sono diciamo approcci completamente diversi rispetto all'altro ma a parte questo io avevo tutto in mente ma non sapevo pianificare non sapevo gestire un flusso di lavoro simile e con tutto quello che tu insegni all'interno di infomarketing non soltanto la mentalità perché davvero diciamola apertamente senza paura la mentalità serve ma senza una strategia o un metodo corretti ragazzi non si fa niente e quindi all'interno di tutte le varie week la terza la quarta se non ricordo male si va anche la quinta si va a sviluppare quella che è il come cosa ha bisogno il tuo utente effettivamente come strutturarlo e quindi io ho creato cinque settimane dove nella prima parliamo prettamente di cambio di mentalità quindi lo svuoto di tutte quelle false credenze che la gente dice che parla e no ma devi ecco non esiste diciamola una così anche qui non serve usare una fotocamera per scrivere con la luce perché scrivere con la luce si può farlo anche senza una fotocamera e non mi riferisco a smartphone ma esistono le radiografie che potete andare a vedere su internet ma a parte questo dopo c'è l'apertura mentale c'è l'apertura aprire e aprire allenare gli occhi quindi allenare al guardare intorno io parlo di vivere i luoghi proprio perché non bisogna soltanto utilizzare la vista ma tutti i sensi possibili perché devi entrare in rapporto con quello che ti circonda perché ricordiamocelo che nel momento in cui metti tra te e il resto una fotocamera uno smartphone hai un ostacolo hai un filtro e io voglio far passare questa consapevolezza e fortunatamente i miei studenti come mi dicono si sentono rinati proprio perché fino ad oggi nessuno gli ha mai tirato le orecchie e fatto capire che questo è realmente importante poi la tecnica è davvero importante in un secondo momento ci sono tantissimi professionisti che fanno che insegnano magari solo la tecnica e io ho imparato moltissimo anche da loro però agli inizi e soprattutto per voler andare oltre bisogna conoscere se stessi bisogna tenere quell'allenamento continuo sia di mente di occhio di studio di formazione è una zuppa da condire tra sacrificio tra costanza tra mentalità tra metodo e deve esserci un metodo e una spesso più di una lancia a favore anche vostro tuo di Gabbo di Pierre che effettivamente anch'io quando ero titubante perché quando si parla di business online conosco persone che mi promettono mille cose che magari mi rompono le palle se si può dire però effettivamente io con voi ho anche solamente le mille testimonianze cioè come diceva bene Giotalenti non è che sono tutti parenti di me che effettivamente quella gente è arrivata lì perché si è fatto il mazzo tanto io me lo son fatto poi me lo son rifatto il doppio perché avevo fatto un flop però ho capito perché studiando e formandosi e magari passando quasi tre settimane e più tutte le sere fino alle due di notte sacrificandosi e magari non uscendo non facendo quello che hai fatto prima ma se vuoi raggiungere certi obiettivi bisogna compromettersi nella vita nessuno nasce e la cosa più bella è che te le guadagni anche non solo per il bene tuo ma anche di chi ti circonda perché insomma ognuno ognuno vuole il bene non solo proprio ma anche della famiglia assolutamente 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 guarda mi fa veramente piacere sentire queste parole e che dire hai detto praticamente praticamente tutto e stavo guardando anche la batteria del mio computer che è arrivata al 2% quindi siamo arrivati proprio al pelo alla fine di questa video intervista dove ovviamente io ti voglio fare i complimenti a nome di tutti a nome di Gabbo e a nome di Pier per i grandi risultati che hai già ottenuto in così poco tempo ti sei trasformato in un venditore eccezionale e oltre che essere competente nel tuo settore se no le due cose non combacerebbero e ovviamente so che molto presto insomma scalerai sempre di più quello che è il tuo business anche perché siamo qua apposta per aiutarti per farti raggiungere quelli che sono i tuoi risultati quindi io Miki ti voglio ringraziare e noi ovviamente ci sentiamo sul gruppo e insomma grazie grazie davvero a voi grazie a tutti quelli che potranno vedere questo video e davvero se credete in voi stessi lottate 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 e probabilmente infomarketing anzi quasi sicuramente può essere un aiuto anche per voi sempre con etica sempre con con tutto l'amore che fate per quello per quella che è la vostra passione o professione quindi credete sempre in quello che fate il metodo ve lo da Miki e niente questo grande Miki ciao ci vediamo ciao a tutti ciao ciao